Ok, 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 dai, 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 rispondi. Pronto 911? Sono Paul, Paul Corroy, dovete aiutarmi, dovete aiutarmi, non riesco a respirare. Ok, signor Corroy, mi dica dove si trova. Non lo so, mi hanno colpito la testa e sono svenuto, l'ultima cosa che ricordo. Come hai riuscito a chiamare? Cosa? Come hai riuscito? No, per favore, aspetti! Come hai riuscito a chiamare? Come hai riuscito a chiamare? Ok, ok. Come hai riuscito a chiamare? Come hai riuscito a chiamare? Come hai riuscito a chiamare? Come hai riuscito a chiamare?